Rieccomi immediatamente mentre carica il video sui classici parliamo delle ultime letture del mese di settembre 2011 di cui non vi ho ancora parlato allora, il primo libro è un libro di cui non vi ho proprio parlato mai in generale cioè non vi ho mai neanche detto che lo stavo leggendo ed è Sherlock Holmes, l'opera completa di Sir Arthur Conan Doyle questa è un'edizione per Uzzo Editori in quattro volumi che contiene tutto cioè tutto lo scibile possibile ed immaginabile su Sherlock Holmes tutto quello che Conan Doyle ha scritto su questo personaggio in particolare, questo primo volume contiene i due primi romanzi Uno studio in rosso e Il signo dei quattro e la prima raccolta di racconti, Le memorie di Sherlock Holmes che contiene una decina di racconti si, andiamo undici racconti il libro in questione a pagine 409 ovviamente non ha un prezzo però c'è il mamuto di Sherlock Holmes che mi pare costi sui 14 euro o 14-19 non mi ricordo allora in questo primo volume facciamo la conoscenza di Sherlock Holmes nel primissimo racconto barra romanzo breve che abbia mai avuto come protagonista questo investigatore consulente che tutti noi abbiamo imparato a conoscere molto bene ovvero Uno studio in rosso il narratore di tutti questi romanzi e racconti finora è il dottor John Watson ex medico militare che fu ferito in Afghanistan ed è stato naturalmente rimandato a casa naturalmente la vita di Londra costa e lui sta cercando un coinquilino con cui prendere una casa e per evitare di pagare insomma perché non può permettersi una casa da sola incontra un amico che gli dice che anche lui conosce qualcuno che sta disperatamente cercando un coinquilino e questa persona è niente poco di meno che Sherlock Holmes quindi Sherlock Holmes e il dottor Watson si incontrano diciamo fanno un certo senso amicizia e decidono di prendere questa famosa casa al 221B di Baker Street casa storica e famosissima Watson è intrigatissimo da quest'uomo che sembra poter dedurre qualunque cosa semplicemente dando un'occhiata ad una persona un genio secondo lui assoluto si rende conto molto in fretta che in realtà è un genio in alcuni settori perché per esempio mentre sa tutto di chimica di cose riguardanti il crimine ignora il sistema copernicano cioè le cose più stupide magari ignora tutto di letteratura proprio perché secondo Sherlock Holmes la mente umana è una soffitta il cui spazio non è infinito e quindi bisogna evitare di caricarla troppo di informazioni inutili Sherlock Holmes e il dottor Watson si trovano ad indagare su due morti misteriose che sembrano legate tra di loro e Sherlock Holmes che è un investigatore consulente ovvero una persona a cui la polizia si rivolge quando non hanno più speranze di risolvere questi casi si rivolge appunto per cercare di trovare una soluzione devo dire che è un bellissimo insomma un libro bellissimo insomma io mi sono innamorata di Sherlock Holmes fino all'inizio nonostante sia un personaggio facilissimo da odiare perché è insopportabile tanto è intelligente è molto spesso freddo insensibile nei confronti dei sentimenti delle persone dice cose a volte crudeli semplicemente perché le sta deducendo non si rende conto di quanto siano in realtà cattive per la persona che le sta ascoltando è un drogato praticamente perché nel secondo volume il segno dei quattro all'inizio lo troviamo impegnato a a farsi a iniettarsi una soluzione di cocaina al 7% perché lui dice che in periodo di inattività la cocaina gli spalanca la mente è un uomo insomma particolarissimo non è il classico eroe senza macchie e senza paura che forse è un po' la letteratura successiva e i media ci hanno un po' portato è un uomo molto difficile con cui è molto difficile convivere il dottor Watson invece non è una sidekick stupida come anche la letteratura successiva ci ha potuto far intuire è un uomo molto intelligente molto molto sensibile quindi forse è meno deduttivo ma anche lui capace di fare delle ottime deduzioni nel corso dei romanzi e dei racconti il loro rapporto diciamo evolve imparano a conoscersi a vicenda Watson diventa il biografo ufficiale di Sherlock Holmes incaricato di raccontare le sue imprese che in realtà lui non si prende mai in merito perché lo lascia alla polizia lascia alla polizia insomma in merito di aver risolto il caso anche se in realtà è stato lui e devo dire che io non vedo l'ora di leggere il resto andrò un po' piano perché sennò troppo Sherlock Holmes può stancare devo dire che mi sono piaciuti di più i due romanzi li ho trovati più completi i racconti a volte erano veramente molto molto troppo simili a alcuni non c'era proprio deduzione da parte di Sherlock Holmes cioè lui veniva a sapere la risoluzione di un mistero tramite altre persone quindi non mi hanno colpito più di tanto ce ne sono però un paio che sono molto carini quindi vale la pena non saltare i racconti anche perché nell'ultimissimo racconto di questa raccolta dei memorie di Sherlock Holmes Conan Doyle uccide Sherlock Holmes perché si era stufato delle richieste continue di questo personaggio voleva darci un taglio e scrivere altro invece poi lo dovrà risuscitare perché il pubblico lo ama talmente tanto e lui naturalmente non vuole rinunciare a questo benessere economico che il personaggio di Sherlock Holmes Ghida quindi se volete scoprire il mondo di Sherlock Holmes assolutamente iniziate fatelo perché non ne rimarrete delusi io ho adorato questo libro ho adorato le storie mi piaceva il modo di ragionare di Sherlock Holmes ho trovato veramente una lettura esilarata cioè io ero veramente divertita dal modo di scrivere di Conan Doyle che è molto fluido molto scorrevole poi in questa edizione l'ho trovata veramente molto carina non so se sia reperibile penso di sì nemmeno nell'usato se la trovate buttateci un occhio quindi questi sono i primi tre racconti le prime tre avventure diciamo di Sherlock Holmes secondo libro questo lo avevo fatto vedere nella famosa lista di lettura ed è L'isola degli amori infiniti di Diana Ciaviano questo è un'edizione Mondadori il prezzo di copertina era di ben 18 euro io l'ho pagato 4,90 euro perché era una rimanenza però questo lo potete trovare anche in edizione economica mi sembra 10 euro 9,50 euro allora un libro molto particolare sono stata un po' all'inizio ero molto incerta poi piano piano ho ingrenato allora di che cosa parla si intersecano due storie la prima è quella di Cecilia che è una giovane è sulle cubana che vive a Miami che però sente moltissimo la mancanza della sua terra e del suo paese non si non riesce a come si può dire ad ad ambientarsi negli Stati Uniti trova questo mondo un po' troppo caotico per lei la seconda storia è l'epopea familiare di due persone che si chiamano Pablo e Amalia incontriamo Pablo e Amalia praticamente veniamo a conoscenza delle loro bisnonne nonne e scopriamo tutte le loro le loro origini Pablo in realtà si chiama Pangli ed è un giovane cinese che va a vivere a Cuba con i genitori Pagli mentre invece Amalia ha origini sia africane da parte di madre che spagnole da parte di padre e ci sono vari temi sovrannaturali che vengono toccati in questo libro ed è un libro molto particolare infatti non l'ho ancora commentato su Anobi perché non non avevo ben chiaro cosa dire allora è un libro molto bello ho un po' arrancato all'inizio devo dire per qualche giorno non l'ho toccato perché i primi due o tre capitoli non mi avevano proprio esaltato e poi insomma volevo finire quello di Sherlock Holmes che in quel momento mi interessava un po' di più onestamente però devo dire che poi ha ingrenato e mi è piaciuto tantissimo cioè mi è veramente piaciuto molto è un libro molto particolare questi scrittori sudamericani che mettono molto il sovrannaturale nelle loro opere mi piace poi mi è piaciuto come è stato trattato in maniera molto particolare quasi fiabesca però anche un po' Cuba che poi passiamo attraverso gli anni delle varie dittature prima quella di Fulgenzio Batista e poi quella di Fidel Castro di Cuba e ci troviamo di fronte a tante cose storiche non semplici però ne esce fuori un bel quadro secondo me della storia di Cuba io non avevo idea che l'influenza cinese fosse stata così forte nell'isola di Cuba lo ignoravo completamente proprio completamente e invece praticamente molta popolazione di Cuba è almeno indirettamente legata a qualcuno proveniente dalla Cina è veramente una cosa che io non sapevo ed è sempre il libro come ho detto anche nel nel video sulla Donna delle Rose un libro che ti insegna qualcosa vale sempre la pena di leggerlo però questo veramente l'ho trovato molto piacevole da leggerlo non è pesante ha un bello stile non è neanche particolarmente lungo non vi ho detto le pagine scusatemi vediamo sono queste sono le note senza le note sono oh eccola sono 331 pagine quindi non sono tante il libro non è particolarmente doppio anzi molto piccolo e comunque lo consiglio perché è un bel libro a me è piaciuto moltissimo è una storia forse la seconda parte mi è piaciuta un po' meno della prima perché poi questa storia d'amore contrastata di famiglie che sono contro questa unione un po' mi ha insomma non mi ha entusiasmato più di tanto però tutta la storia precedente invece veramente mi ha colpito moltissimo e lo consiglio assolutamente so che qualcuno mi aveva scritto che l'aveva letto che gli era piaciuto e è piaciuto molto anche a me quindi siamo sulla stessa lunghezza donna però non mi ricordo chi me l'ha scritto scusa scusami mi dispiace tantissimo di non ricordarmi comunque questo è assolutamente un libro consigliato è un libro molto molto leggero insomma certo in certi punti fa pensare però insomma non è che sia una lettura poi particolarmente pesante poi lo stile di Daina Chaviano è molto 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 scorrevole non è scritto piccolissimo però non è neanche scritto gigante è scritto medio normale insomma bello molto bello poi la cosa che mi sono piaciute molto sono queste note iniziali di capitolo poi c'è all'inizio c'è un albero genealogico sono i due alberi genealogici perché i personaggi sono tanti a volte ci si può confondere poi ci sono queste mini note che parlano dell'influenza cinese a Cuba che sono interessanti da leggere quindi assolutamente è un titolo consigliato a me è piaciuto veramente molto è stata una sorpresa che l'ho preso per caso non avevo idea di che cosa stavo comprando comunque assolutamente lo consiglio quindi l'isola degli amori infiniti di Deina Ciaviano ultimo libro anche questo bellissimo il molino dei dodici corvi di Otto Friedbrussler questa è un'edizione idea un prezzo di copertina è di 8,60 euro per un totale di 285 pagine scritto grande 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 scritto abbastanza grande allora mi pare che mi aveva scritto Vale 79,72 Vale che gli interessava molto questo libro prendilo se lo trovi prendilo assolutamente al 100% allora per parlare di questo vi potevo fare una piccola premessa biografica diciamo allora io sono cresciuta non soltanto con i cartoni Disney ma soprattutto con le fiabe tradizionali fratelli Grimm ma anche fiabe russe prese da vari libri che mio padre mi leggeva quando ero piccola e in questo libro ho trovato tantissimo quell'atmosfera fatata particolare non delle fiabe Disney un po' sdolcinate molto edulcorate ma proprio delle fiabe autentiche che sono anche fiabe forti e negative qui veramente ci ho ritrovato tantissimo questa atmosfera di che cosa parla il libro il libro ha per protagonista un ragazzo di 14 anni che si chiama Krabat Krabat è un orfano che vaga da villaggio in villaggio con alcuni amici e una sera inizia a sentire inizia a sognare qualcuno che lo chiama insistentemente dicendogli di andare nel mulino della palude di Kosel ci troviamo nella Germania del 600 più o meno 600-700 e c'è un'ambientazione storica ben precisa e sappiamo che ci troviamo in Germania da alcune notizie che ci vengono date notizie storiche in questo mulino li viene preso come assistente come diciamo apprendista di questo mugnaio e insieme a lui ci sono altri 11 ragazzi molto presto viene a scoprire di essere in una scuola di magia nera e scopre anche che ci sono tantissimi segreti che piano piano lui andrà a scoprire segreti che non sono molto molto oscuri allora è un libro che veramente te lo mangi te lo divori io l'ho letto in un giorno non riuscivo proprio a staccarmi dalle pagine ha un'atmosfera cupa e molto gotica bellissima se vi piacciono i libri gotici questo è consigliatissimo adesso arriva Halloween questo è un libro perfetto per Halloween se avete dei bambini o conoscete dei ragazzini diciamo dagli 8-9 anni in su non vorrei insomma qui c'è scritto da quanta età va? no non c'è scritto penso proprio che non ci sia scritto no comunque questo è un testo conosciutissimo perché è un classico della letteratura per ragazzi che è stato scritto nel 1981 ed è molto molto letto e io mi ricordo questa storia perché poi si basa su una leggenda slava mi sembra è veramente bellissima non è molto descrittivo almeno all'inizio poi lo diventa un po' di più però la senti proprio questa atmosfera particolare questa atmosfera molto cupa molto forte in un certo senso perché poi le fiabe dovevano essere degli insegnamenti per i bambini quindi a volte erano molto crude se leggete le favole dei fratelli Grimm o di Perrault vedete che c'è una certa crudezza nella fiaba non è la fiaba Disney quindi molto edulcorata con sempre un lieto fine alcune fiabe non hanno il lieto fine sono finali tragici proprio per insegnare al bambino a non fare determinate cose e in questa storia veramente c'è tantissima tradizione della fiaba è veramente un libro secondo me scritto benissimo poi uno stile scorrevolissimo la traduzione in certi punti mi è passata un po' strana però io non conosco il tedesco quindi potrebbe essere solamente una mia impressione però veramente scritto benissimo con uno stile fluidissimo che non sentite proprio il peso delle pagine poi non è lungo è piccolino si legge veramente velocemente ripeto se avete dei bambini o conoscete bambini e volete cercare di avvicinarli alla lettura questo è un ottimo libro perché è una fiaba non noiosa assolutamente e non è proprio una fiaba per bambini perché ve l'ho detto dai nove anni in su non bambini piccoli assolutamente anche se con i bambini di oggi forse va bene anche per i bambini più piccoli comunque la cosa che mi è piaciuta di più è stata l'atmosfera questo freddo questa cupezza io adoro le cose vagamente horror quindi lo sapete ve l'ho già detto ventimila volte e veramente lo consiglio tantissimo tantissimissimo è proprio un libro bello io non l'ho comprato quasi per caso cioè l'avevo puntato da un po' però non è che avessi poi così tanto così tante aspettative invece è stato veramente un libro fantastico veramente fantastico però questa edizione è molto carina i capitoli hanno dei titoli cosa che mi piace sempre per esempio questo si chiama commercio di cavalli e ci sono anche cioè è diviso per tre anni o scoprirete scoprirete che non è proprio così comunque assolutamente leggetelo anche se siete adulti anzi soprattutto forse se siete adulti lo potrete apprezzare ancora meglio perché forse i bambini un po' non hanno non hanno vissuto appunto perché io in questo libro ci ho ritrovato la mia infanzia e per me è stato bellissimo e quindi magari potrebbe succedere anche a voi e sarebbe un'ottima una bella cosa quindi assolutamente consigliatissimo anche il murino dei dodici corvi sono contenta di aver fatto solo recensioni positive vi faccio brevemente vedere il libro che sto leggendo in questo momento che ho quasi finito ed è la sedicesima luna di chiami garcia e margaret sol sono a pagina 448 mi manca questo pochettino pochettino da leggere stasera me lo finisco di questo libro ve ne parlerò sul canale delle creature della notte bello anche questo consigliato uno young adult che mi ha sorpreso ne parlerò però naturalmente sul canale delle creature della notte quindi a novembre però assolutamente anche questo consigliato e della lista di lettura che vi ho fatto vedere mi sembra che mi manchino due libri sì due libri la lista è appesa qui per questo ho alzato lo sguardo quindi 20 minuti ho parlato vabbè non siete abituati alla mia logorrea terrificante niente questo è tutto tutti e tre i libri sono consigliati questa volta i miracoli ogni tanto avvengono e niente spero di non far passare così tanto tempo per il video successivo e niente ci vediamo presto ciao